A Salerno, così come negli altri porti d'Italia, tutte le navi ormeggiate in porto ed ancora in rada a mezzogiorno hanno rotto il silenzio, facendo ascoltare il suono delle sirene per onorare la memoria di Matteo Leone, il giovane operaio morto stanotte dopo un incidente al porto di Salerno. Un semplice ma significativo gesto deciso a livello nazionale, accompagnato anche da uno sciopero proclamato in tutta Italia, da Filt CGL, Fit Cisle e Will Trasporti per la giornata di oggi, garantendo solo i servizi minimi essenziali. Matteo Leone, salernitano doc, 34enne, lavorava alla compagnia portuale alla cooperativa unica lavoratori del porto Flavio Gioia dal 2005. È morto in nottata all'ospedale Ruggi Dragona di Salerno per le gravi lesioni riportate dopo essere stato investito a fine turno ieri mattina da un muletto in movimento al molo 10 del porto commerciale di Salerno. Troppo gravi le lesioni riportate agli arti inferiori alla colonna vertebrale, nonostante i tentativi dei medici di strapparlo alla morte. Questa volta non ce l'ha fatta, una battaglia più difficile di quella che invece aveva vinto non molto tempo fa, sconfingendo la leucemia. Un brutto incidente. Matteo è stato travolto in pieno da un carrello elevatore in movimento, condotto da un suo collega, Coetaneo. Una tragedia, una fatalità per il 34enne salernitano, molto conosciuto nel cuore antico della città, componente delle paranze di San Matteo e Sant'Anna e tifosissimo della Salernitana. Un brutto epilogo per la famiglia Leone. Anche il suo papà, lavoratore del porto, una decina di anni fa rimase vittima di un incidente allo scalo, cadendo da un container e risvegliandosi però dopo mesi di coma. Le indagini sono affidate ora alla Polizia di Frontiere e alla Capitaneria di Porto di Salerno serviranno alla magistratura per accertare responsabilità e cause dell'accaduto. Tanti messaggi di cordoglio per Matteo sulla sua bacheca Facebook. Un giovane amato da tutti, dall'animo sensibile, per il suo compleanno aveva chiesto non regali ma donazioni per l'AIL per quanti lottano contro le malattie del sangue. Aveva lottato contro i mulini a vento, non si era reso come lui stesso scrive in un post. La vita lo aveva rimesso in piedi per proseguire il suo viaggio. Incurante degli ostacoli della sconfitta. Stamani, dinanzi all'ingresso del porto commerciale di Salerno, i sindacati che hanno indetto lo sciopero di 24 ore per i lavoratori del porto hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia e a Matteo. Oltre un'ora di sciopero, sempre in sostegno di Matteo, in tutti i porti d'Italia. Come porto di Salerno, ma in realtà come porto della Campania, già dalle due della scorsa notte, in concomitanza con la morte di Matteo, si è partiti con uno sciopero di 24 ore. Uno sciopero in sostegno del lavoratore, perché è impensabile ed immaginabile legare il lavoro e legare il proprio lavoro, il proprio dovere alla morte. È un atto gravissimo che un lavoratore, mentre svolgeva la propria attività, ha subito un così grave incidente. Noi come organizzazione sindacale, da sempre vicino ai lavoratori, anche questa volta siamo scesi in campo in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Un incidente sul lavoro, una fatalità, una tragedia. Oggi si guarda però alla sicurezza all'interno del porto, dove sono impegnati tanti lavoratori. Sì, sicuramente un incidente, una fatalità che ha coinvolto il lavoratore, al quale noi esprimiamo alla sua famiglia vicinanza e sostegno, ma vicinanza anche a tutti i lavoratori coinvolti nel grave incidente e a tutti i lavoratori portuali. Sicuramente un attimo dopo bisognerà coinvolgere tutti gli attori principali, dalla Capitaneria, dall'autorità di sistema, per rinalzare ancora di più i livelli di sicurezza. Ma ora mi sento di dire, con senso di responsabilità, che la nostra priorità è Matteo e stare vicino alla famiglia. Stare vicino alla famiglia di Matteo, stare vicino alla famiglia dell'altro lavoratore, sarà l'indagine della magistratura a far chiarezza. Sicuramente conterà poco ciò che è accaduto, perché una vita è stata strappata a questa terra. Sì, sicuramente conterà poco, una vita è stata strappata, un'altra vita è stata distrutta dai sensi di colpa, quindi noi ci sentiamo semplicemente di dire che siamo vicini a entrambe le famiglie, al lavoratore che conduceva il carrello, siamo vicini ai lavoratori portuali in questo momento così delicato, e ribadisco, che ci tengo a precisare, non si può paragonare il lavoro alla morte. Quindi bisogna andare avanti, bisogna stare vicino ai lavoratori, bisogna inalzare ancora di più, un attimo dopo, tutti i livelli di sicurezza. Non è una frase retorica, c'è la necessità di doverlo fare e lo faremo da subito.